Prima di cominciare ti invito a scaricare OneFootball, quella che è il mio modo di vedere, è la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Link in descrizione, scaricatela se volete, le migliori news, sempre! John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, l'Udinese batte la SPAL per 3 a 2, vince l'Udinese ragazzi. Tra l'altro primo tempo che provvedente comanda solamente l'Udinese, giocano solamente loro, la SPAL non scende mai in campo. E nel secondo tempo poi vediamo finalmente la SPAL, l'Udinese con triplo assist di De Paul, che io tra l'altro ho detto, porca tre ho messo i dolari De Paul e non ci aveva fatto, al momento aveva fatto 3 assist De Paul. Quando la vede che aveva fatto assist ho detto, ma che cazzo stai a D, ma che cosa mi stai dicendo? Doppietta di Okaga che tra l'altro si incazza anche da morire quando Mandragora non gli passa il pallone, si incazza da morire, ma giustamente perché lì ragazzi, ma a parte Mandragora fa un tiro di merda. Ma al di là di questo, Mandragora fa un tiro di merda, però anche l'idea di tirare, no? È un'idea abbastanza, cioè secondo me è poco intelligente perché comunque tu hai il movimento Lidio Caga, che poi fosse, sembra una bestemmia, fosse un giocatore scarso, ok, ma ti ha appena fatto una doppietta importantissima. L'Udinese oggi aveva bisogno di vincere, aveva per forza bisogno di vincere e i tre punti sono arrivati. Nel suo tempo scende in campo solo la Spal, complimentissimi a Petagna, ragazzi, Petagna ma che giocatore è? Tra l'altro super sottovalutato da tutti, super sottovalutato da tutti, quest'anno 16 gol, secondo me ora a 20 non ci arriverà perché non ci arriverà manca una partita. Però 16 gol in casa veramente tanti, 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 Petagna alla Spal ha fatto veramente tanto bene. Che poi Paloschi ha scappato dall'Atalanta alla Spal per cercare spazio, Petagna l'ha raggiunto e l'ha eclissato anche lì. All'Atalanta con Gasperini vedevamo un attaccante che segnava poco, alla Spal vediamo un attaccante che segnava ogni domenica. Praticamente con chi regasse 10 gol è una partita sì e una no, Petagna fa gol. L'Udinese trova tre punti importanti per la salvezza, adesso penso rimangano in gioco, vabbè la Fiorentita è praticamente salva però rimane in gioco, rimane in gioco il Parma, rimane in gioco il Genre, rimane in gioco l'Empoli. E allora la domanda che vi faccio qua sotto è secondo voi chi è che andrà a retrocedere tra queste tre? Fatemi sapere con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete, fatevi sapere, vi lasciate un mi piace, guardatevi sempre un dislike. Grazie a vi sto subito, buon solo all'alleno come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.